L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento a cavallo tra 2019 e 2020, tra bilancio consuntivo e prospettive. Ascoltiamo il direttore reggente, Alessandro Mazzara. Ma io in atto per il ruolo che svolgo di direttore generale facente funzione, sto cercando di mettere a fuoco determinate problematiche che sicuramente garantiscono l'assistenza sanitaria e quindi ci stiamo adoperando per chiudere il 2019 con la possibilità di mantenere i servizi sanitari efficienti, di mantenere medici, infermieri, personale sanitario in genere, personale amministrativo che attualmente lavora con rapporti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di prosecuzione e la loro attività lavorativa proprio per evitare soluzioni di continuità nell'erogazione all'assistenza sanitaria sperando nel prossimo futuro di stabilizzare con procedure concorsuali che consentiranno il reclutamento a tempo indeterminato e quindi dare maggior impulso alle attività sanitarie nei presidi ospedalieri ma anche sul territorio.